Salve a tutti ragazzi e benvenuti al primo tutorial sul Dash. Un consiglio che posso darvi prima ancora di guardare questo video è di riguardarvi il video sul precision a salire e di impararlo bene perché è un'ottima preparazione a questo movimento. Il Dash assomiglia molto anche al Lazy e al Tip, quindi mi raccomando non confondeteli, sono anch'essi un'ottima preparazione al movimento, quindi se volete, anzi forse è meglio, andate a riguardarli. Appena trovato un ostacolo della giusta altezza ed esservi scaldati adeguatamente braccia e gambe, potete provare a salirci in precision. Se ci riuscite, in teoria, perché noi parliamo di teoria, dovreste riuscire a fare anche il Dash. Come ulteriore preparazione, dopo il precision fate cadere il cappello. Una volta che vi è caduto, vi sedete sul muretto e vi spingete via come spiegato nel tutorial del Lazy. Ecco, uno si mette seduto, si spinge e via! Verso l'infinito e oltre! Sì, vabbè, fammi parlare. Allora, la differenza tra il Lazy e il Dash è che nel Dash si spinge con entrambe le mani insieme, mentre nel Lazy si mette prima una mano e poi l'altra, vedete? Tutte e due insieme. E se voglio spingere con due anche nel Lazy? Non puoi. Perché? Perché muori. Le gambe invece passano insieme e sorpassano l'ostacolo, lasciando che siano le braccia a spingervi via. Spingetevi via perché sennò date una culata sul muro. Potete anche scalciare con le gambe, basta farle passare insieme. L'importante però è sempre ammortizzare con le braccia mentre spingete via. Bene ragazzi, quindi questo era il tutorial sul Dash. Se non l'avete capito riguardatelo finché non lo capite e se proprio non ci riuscite che vi devo dire. Cioè vi do io i soldi per venire al corte. I soldi. Hanno rubato i soldi. non è possibile. Uno deve fare un video una volta che fa un tutorial e poi devono impugnare i soldi.